signori oggi lancio dalla gradinata ma vai buongiorno oggi volevo fare qualcosa di diverso lancia dalle gradini signori no buongiorno signori buongiorno buongiorno giovanni è con noi stiamo preparando stiamo preparando abbiamo vabbè abbiamo bibiri chioggia paguro murice abbiamo un po di tutto compa andiamo a lanciare poi sperando che ci si vede durante il video magari vediamo se succede qualcosa di strano anche se non siamo di morale giusto però capita 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 vabbè vogliamo basso infatti ma non è questo isa anche se non ci si vede per fare 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Scusi! Scusi! Maria pesa molto, ragazzi! Poi me lo sto, perché lo facciamo? No, no, che poi lo facciamo molto. Ma tu immagini? Scusi! 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 Sento moltissimo, con il giudizio. Incessivo! Vabbè! Gli saca morita! Evviva la murena! Gli saca eterna! Nombra, ocupa! Tar Together! Gli saca. Es beimagini di menseelle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.